Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata da Luca Prola. Cari sorelle e cari fratelli all'ascolto, per invocare la presenza del Signore in mezzo a noi vi invito ad ascoltare alcuni versetti del Salmo 114. Il Salmo di oggi ci invita a riconoscere la potenza e la signoria di Dio. Quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe da un popolo di lingua straniera, Giuda divenne il santuario del Signore e Israele suo dominio. Trema o terra alla presenza del Signore, alla presenza del Dio di Giacobbe che mutò la roccia in lago, il macigno insorgente d'acqua. Preghiamo, entrare nell'attesa del Padre. Per l'uomo si tratta del primo passo, il primo passo della fiducia. Dei passi di questo genere Dio nel suo amore ne fa ogni giorno e ricomincia, estende le braccia e stringe a sé. Eravamo disabitati ed eccoci arricchiti. Eravamo poveri ed eccoci colmati. Eravamo agitati ed eccoci tranquilli. Eravamo indecise ed eccoci sicuri. Pronte. Amen. Pronte. 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 Grazie a tutti. Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, oggi vorrei leggere e commentare insieme a voi un passo della lettera ai Romani, dal capitolo 14, versetti da 1 a 12. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia verdure. Colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore, e ringrazia Dio. Nessuno di noi infatti vive per sé stesso, e nessuno muore per sé stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto, come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di sé stesso a Dio. Il Signore benedica la lettura della Sua parola. Carissimi fratelli e carissime sorelle, Dal testo che abbiamo letto scelgo di mettere l'accento, tra le tante possibili, su tre questioni. Il dovere dell'accoglienza dei cristiani, la signoria di Cristo sulla nostra vita, sulla nostra morte e sulle cose che facciamo, e il giudizio di Dio, al quale ognuna e ognuna di noi sarà sottoposto, sarà chiamata. Per capire il senso delle indicazioni, Paoline, sull'accoglienza, è importante soffermarsi su che cosa significa accogliere realmente qualcuno. Accogliere non significa semplicemente accettare. Qui accogliere qualcuno significa riconoscerlo come appartenente alla propria cerchia di amici, alla propria società. Accogliere, per Paolo dunque, è una cosa seria. Per i cristiani che Paolo ha in mente, accogliere significa considerare come fratello o sorella chiunque si riconosca seguace di Cristo e quindi benedetto da Dio. Paolo era ben cosciente della portata della difficoltà di una richiesta così profonda. E infatti indugia sul perché di una richiesta così radicale. Gli altri, le altre che incontriamo per strada, devono essere accolti, accolte come fratelli e sorelle. Non per pietà, ma perché a loro volta sono stati e state accolti e accolte da Dio. Nella prospettiva paolina, il centro non sono le tradizioni che ciascuno porta con sé, nel testo il tipo di cibo e di calendario, ma la scelta di essere interamente con Dio, in Gesù Cristo. Ma il motivo della divisione che lacerava la comunità dei Romani a quei tempi, e Paolo lo sapeva, era ben più profondo. La diatriba riguardava la grazia di Dio e la conseguente libertà di Dio e degli esseri umani. I forti della comunità di Roma si chiedevano se avesse ancora senso l'esistenza di cristiani e di cristiane che dopo la scoperta della giustificazione di Dio si sentissero ancora schiavi della legge, nel testo i deboli. La risposta di Paolo, anche a costo di apparire contraddittorio nel suo stesso pensiero, è affermativa. È affermativa perché Paolo in questo passo, prima della sua dottrina, mette al centro la libertà di Dio e degli esseri umani. Se si diviene consapevoli, dice Paolo, della signoria di Dio in Cristo, sulla nostra vita e sulla nostra morte, poco importa come lo si viva o come se ne faccia testimonianza, se contante o nessuna regola. Ecco la giustificazione che rientra dalla finestra. Non solo, Dio può scegliere, liberamente appunto, chiunque ritenga adatto, adatta, perché il suo regno venga. Chi può decidere al suo posto? Ma la libertà di Dio e degli esseri umani non è l'unica cosa che qui si pone in questione. Il diritto di migliorare se stesse qui viene messo in discussione. Quale dei forti nella fede può decidere senza appello che un debole non possa migliorare, non possa capire, non nasconda in se stesso e in se stessa una vocazione che deve essere solo rivelata e lasciata crescere? Mi piace pensare, ma questo il testo non ce lo dice, che Paolo scriva queste righe contro i benpensanti, le perfette della comunità romana, proprio ripensando alla sua storia. Cosa sarebbe successo con i Galati e i Corinzi, è anche capitato, se i primi cristiani e le prime cristiane non si fossero fidati delle parole di un certo Saulo di Tarso, persecutore dei cristiani e delle cristiane? Che cosa sarebbe successo? Non avrebbero, non avremmo avuto la possibilità di riflettere sulla giustificazione, sul perdono di Dio e sul suo giudizio. Mi piace pensare che Paolo tenga i deboli nella fede, perché lui stesso è stato uno di loro. Lui stesso deve aver pensato che la legge fosse tutto, fosse Dio stesso. Ma poi è successo qualcosa, e questo qualcosa ha cambiato la sua e la nostra vita. Dunque, perché questo qualcosa non può capitare a ognuno, a ognuna dei membri della comunità romana alla quale scrive? E perché questo qualcosa non può capitare a ciascuna e ciascuno di noi? Insomma, come possiamo essere sicuri? Sicure che quando escludiamo qualcuno, qualcuna dalla nostra comunità, non perdiamo una possibilità di imparare cose nuove, di scoprire nuovi orizzonti, di vedere un futuro che ci sembra ancora irraggiungibile? Non possiamo saperlo. Ed è questa incertezza che spinge Paolo ad essere cauto e caustico riguardo alla comunità di Roma. E poi c'è il giudizio di Dio. Chi può dirsi giusto, giusta al cospetto di Dio? Forse i forti della comunità di Roma? Quelli che mangiano la carne e non rispettano il calendario delle feste ebraiche? No, nemmeno loro possono. Paolo è convinto, lo dice citando Isaia nel penultimo versetto, che di fronte a Dio ciascuno e ciascuna debba piegare le ginocchia, abbia qualcosa di cui pentirsi, alimentazione e calendario liturgico a parte. E a noi? E a noi che cosa resta di questo brandello di lettera scritto molti anni fa? A prima vista sembra davvero che questi versi non ci riguardino più. Non riguardino più noi moderni, non riguardino più noi protestanti che abbiamo imparato a fare a meno di orpelli, statue e santi da venerare. Chi di noi ha ancora problemi col cibo rituale? Chi di noi si sente ancora obbligato a rispettare dei giorni sacri? Anche la domenica purtroppo ha perso il suo senso. Ho persino sentito dire che per i protestanti andare al culto non è obbligatorio, quindi. Ma non è questo nostro atteggiamento un po' troppo simile ai forti della comunità di Roma. Non è che poi questa nostra presunta, solo presunta superiorità, ci renda escludenti, come aveva reso escludenti quelli forti della comunità romana. Non è che questa certezza, anch'essa solo presunta, di non aver bisogno di niente, di nessuno, ci ha fatto dimenticare come è successo ai Romani la presenza di Dio nella nostra vita. Non è che la presunzione, questa tutt'altro che presunta, ci fa sottovalutare come è successo ai Romani il giudizio di Dio. Paolo qui ribadisce con forza che la libertà e la giustificazione sono e rimangono valide se non diventano occasione di divisione. La giustificazione e la libertà, ci dice qui Paolo, devono servire solo per unire, per unire noi a Dio, quando Egli stesso contro ogni pronostico dà un'altra possibilità alla nostra vita, per unire noi con i nostri fratelli e le nostre sorelle, quando grazie a Dio li e le vediamo uguali a noi, per unire noi a noi stessi, quando scopriamo che per grazia sola ogni peccato ci è stato perdonato. Davvero questo testo, caro fratello e cara sorella, non ha più nulla da dirci? Amen. La voce tua dolcissima, Gesù del cuore avvito, asciugale e prevarire, dice Paolo, vieni a me. Vieni a me. La voce tua dolcissima, Gesù mia del comienio, divita l'acqua di Dio, Dio solo mi dà l'op. Dio solo mi dà l'acqua di Dio, Dio solo mi dà l'acqua di Dio, di Dio solo mi dà l'acqua di Dio, 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 che non l'acqua di Dio, o Dio accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Aiutaci, Signora, affinché le parole dette e le preghiere fatte siano testimonianza vera della tua accoglienza, della tua vicinanza e della tua giustizia. Dunque, con la certezza del perdono e della vicinanza di Dio, come ci insegna Gesù, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, ci benedica il Dio della libertà, della pace e della giustizia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata da Luca Prola.